buonasera buonasera a tutti e ben ritrovati nel canale benvenuti in questo nuovo video video dedicato alla sesta giornata dell'atp finals sesta giornata che ha sciolto l'ultimo rebus ovvero quello dei due qualificati nel gruppo b nel gruppo nastase nico ora non mi ricordo il nome abbiamo i due semifinalisti del girone tra virgolette zerev parleremo delle semifinali parleremo di come i semifinalisti che ancora non vi svelo ma che probabilmente già sapete già sapete sono arrivati in appunto in semifinale parleremo degli accoppiamenti delle semifinali e parleremo anche di come potranno andare le semifinali non prima di avervi invitato ad iscrivervi al canale lasciare like al video attivare la campanella forza avanti con le iscrizioni per raggiungere quota 1250 like al video condivisioni del video e soprattutto www.fantatennis.net per partecipare all'edizione del fantatennis del 2025 oggi abbiamo ufficialmente inconorato il vincitore del 2024 e Tommy Tennis tanti complimenti che ha vinto l'edizione 2024 pur a finals non finite perché di fatto è imprendibile dal secondo in classifica domenica sera sapremo il vincente del percorso tornei di colui che ha pescato nel nel sorteggio di venerdì scorso il giocatore che poi vincerà le finals purtroppo 4 hanno dovuto salutare restano in 4 come i semifinalisti delle finals quindi parliamo di gruppo b e parliamo della vittoria netta di zerev oggi pomeriggio nei confronti di carlos alcaraz un carlo un carlo un carlos alcaraz abbastanza nervoso un carlo un alcaraz che come l'anno scorso ovvia finisce in calando il finale di stagione e come l'anno scorso di fatto consegna sinner la palma di vero numero uno nel senso che aveva già intuito che il più forte nella lunga distanza tra i due a stagione completa fosse sinner quest'anno ne abbiamo avuto una conferma alcaraz è un giocatore molto forte ma che si sa esprimere per brevi tratti della stagione sinner un giocatore molto più continuo la vittoria netta 7 6 6 4 di zerev oggi ne la conferma zerev che comunque è il giocatore insieme a sinner più in forma di questo ultimo periodo e di questo e di questi ultimi due mesi che ci hanno portato alle finals il secondo nome del secondo semifinalista è arrivato dopo un set perché al momento in cui rud ha vinto il primo set contro rubler la partita è diventato un allenamento luca aveva già raggiunto il secondo posto gli sarebbero bastati sette game un set oppure perdere anche due a zero ma facendo sette game ha vinto il set rudva meritatamente a sfidare sinner in semifinale l'altra semifinale sarà un interessantissimo fritz contro contro zerev qua devo fare un appunto agli organizzatori nel senso che è un po ingiusto far giocare sinner di sera e zerev di pomeriggio per un motivo molto semplice perché il girone a è terminato un giorno prima e quindi era giusto far giocare il pomeriggio la ma non perché io l'avevo anticipato nel video dandolo per scontato perché insomma era molto più corretto far giocare la semifinale del vincente del gruppo a di pomeriggio e poi far giocare la sera la semifinale di zerev dando a zerev più tempo per riposare qua zerev arriva che ha giocato è vero che ha giocato oggi pomeriggio è vero che ha 24 ore però insomma considerate che rud ha due giorni e qualche ora di tempo per riposare e poi soprattutto non è una scelta troppo brillante in ottica finale perché se sinner va a lungo potrebbe avere meno tempo per riposare in finale ma questo c'entra poco c'entra il fatto che il vincitore del gruppo a avrebbe dovuto giocare secondo me di pomeriggio è il vincitore del gruppo b di sera anche per rispettare l'ordine cronologico delle apparizioni no cioè appare prima sinner sin deve apparire anche nella prima semifinale la prima semifinale è quella del primo gruppo e la seconda semifinale è quella del vincente del secondo gruppo detto questo ripeto diciamo che rude è l'ospite inatteso perché se nel gruppo a nel gruppo di sinner potevamo pensare che che frizza alla fine potesse fare lo scherzo contro medvedev onestamente il gruppo di rubri vela carazze sembrava sembrava piuttosto scusate sembrava piuttosto chiuso e sembrava non lasciare spazio a sorprese è chiaro che nelle semifinali partono nettamente favoriti sia sia zerev nella semifinale contro contro fritz del poveriggio probabilmente la semifinale un pochino più aperta delle due sia sinner nella semifinale serale che a occhio e croce per speriamo di non essere smentiti come in in tutta la settimana che croce la semifinale tra sedere lud sembra una partita molto più chiusa sulla carta di quanto non lo sia la prima semifinale sì che ripeto vede si zero e favorito non vede lo stesso gap che c'è tra sinner e rude rispetto al gap che c'è tra cioè detto detto in soldoni e più semplice fritz batta zerev di quanto non lo sia che rubata sinner l'ho detto alla prima l'ho detto alla prima giornata del gruppo b ed è successo l'inferno speriamo che la cosa non si ripete speriamo che questa volta il pronostico venga venga rispettato vedo anche le quote dei boom makers per farvi un esempio 0 e 1 e 36 contro fritz a 3 sinner 1 e 0 8 contro rude a 8 quindi anche boom makers più o meno si allineano a quello che è il mio pensiero io ho detto questo vi ringrazio vi saluto vi auguro una buona venerdì sera vi auguro un buon sabato di tennis per chi vede il video sabato per chi vede il video tra qualche ora perché sono le dieci e mezzo quindi non è che poi manchi tantissimo al sabato un buon sabato di tennis un buon sabato di finals e speriamo di avere yannick sinner in finale nella domenica nell'ultima domenica della stagione poi ci saluteremo con delle novità perché domenica sera vi racconterò l'evoluzione di questo canale che da da più o meno dalla prossima settimana comincerà a trattare sì il tennis in maniera principale ma cercherà di coprire questa questa settimana anche con altri sport compreso il calcio quando ci sono le coppe europee vi farò un piccolo scultus ogni lunedì della della settimana che ci aspetta grazie a tutti e alla prossima